I carabinieri forestali della stazione di Arcevia in provincia di Ancona hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica il Presidente e un dipendente di un allevamento situato nel territorio della Valle del Misa per aver cagionato gravi sofferenze a circa 1000 bovini da latte. Gli animali erano tenuti in stalla in precarie condizioni igieniche tali da determinare l'insorgere di numerose patologie con la conseguente morte di molti capi. Le attività di sopralluogo e di verifica si sono svolte grazie alla segnalazione dell'Associazione Essere Animali e sono state eseguite dai militari con l'ausilio del Servizio Veterinario di Senigallia e dell'ARPAM. Durante le indagini è stato riscontrato il decesso di 24 bovini nel corso del 2021, abbattuti per eutanasia o macellazioni di urgenza, per gravi traumi riconducibili, ad esempio alla rottura o allussazioni degli arti cagionati da una presenza in eccesso di letame all'interno della stalla, che aveva comportato condizioni di pavimenti scivolosi. Inoltre sono stati scoperti due manufatti abusivi di 300 e 600 metri quadrati, costruiti senza alcuna autorizzazione e privi del nulla ossa paesaggistico, con lo scopo di raccogliere le deiezioni degli animali. Accertata anche la gestione di tonnellate di rifiuti non pericolosi, costituiti da liquami di origine animale, stoccati in quantità eccessive e smaltiti illecitamente nel terreno, i presunti irresponsabili rischiano le pene previste dal codice penale e dal codice ambientale, oltre che dal testo unico sull'edilizia e dal codice del paesaggio, con pene che vanno fino a 27 mesi di reclusione e multe fino a 45 mila euro. Infine, la società cooperativa che gestisce l'allevamento è stata denunciata per la responsabilità amministrativa connessa al reato di gestione illecita di rifiuti, ora rischia di essere condannata a pagare un ammontare, compreso tra 64.500 euro e quasi 380 mila.